Andiamo a vedere insieme come creare queste foglie damascate perfette per l'autunno. Andiamo prima di tutto a stendere il nostro colore come sfondo zenna, l'ideale è sempre stendere due passate a smalto ben tirate, oppure una se vi viene già bella coprente, ma fate sempre attenzione a non abbondare troppo con il prodotto, altrimenti rischiamo che non polimerizzi. E andiamo in lampada a 20 secondi. Nel frattempo sul nostro decoring andiamo a mettere il nostro nirvana e anche il nostro zen, quindi ci prepariamo già per la decorazione. Andiamo, riprendiamo la nostra tip, pennello sintetico 1, ritagliato meno in base a quanto volete piccoline e sottili le foglie, facciamo una goccia e l'allunghiamo dando il primo tratto, servirà poi a dare la direzione alle nostre foglie. Facciamo tutte gocce che si uniscono al nostro primo tratto e poi in un secondo momento le trasformeremo in vere e proprie foglioline. Andiamo a dare anche direzioni diverse, è molto importante avere la goccia iniziale, perché poi col pennello praticamente pulito andremo a tirare la punta per andare a creare proprio la nostra fogliolina. Quindi non fatele troppo lunghe le vostre gocce, perché altrimenti poi diventeranno delle foglie lunghissime. Quindi proprio goccia e tiro, e poi vado a tirare al contrario verso l'esterno in modo tale da creare la nostra fogliolina. Ovviamente se serve o dove serve cambiamo la direzione o sistemiamo bene la forma della fogliolina. Ricordiamoci sempre di riempire bene anche diciamo sulle parti più esterne, perché altrimenti sembrerà incompleta la nostra decorazione. Creiamo la prima foglia in alto, in questo caso perché lavoriamo sulla zona delle cuticole, e un'altra fogliolina invece poi la posizioniamo sul lato in modo tale da fare un po' di gioco senza coprire completamente la nostra tipo. Quindi in modo tale da lasciarci lo spazio poi per le foglie in sovrapposizione. Stessa erentica cosa, la prima foglia dà l'indicazione della direzione e poi le altre vanno ad attaccarsi al gambo della prima foglia. Molto importante anche che non siano troppo attaccate tra di loro, altrimenti non abbiamo lo spazio per allargarle o per appunto allungare la punta. Quindi molta attenzione nel momento in cui andiamo a posizionare le nostre gocce, di non andare troppo vicino né alla foglia precedente, né appunto alle varie gocce mai troppo vicino una all'altra, perché altrimenti poi rischiamo di non avere lo spazio per far sì che la goccia diventi una vera e propria foglia. Sistemiamo, qui in questo caso aggiungiamo perché la gocciolina era un pochino troppo piccolina, e poi andiamo invece a tirare la punta. Proprio così creando, qui togliamo anche un po' di colore, altrimenti poi non polimerizza correttamente. Dopo aver polimerizzato almeno 20 secondi andiamo a sigillare. In questo caso sigilliamo con Silk Finish, andiamo a stendere uno strato leggermente abbondante e lasciamo che si autolivelli sopra le nostre foglioline, altrimenti rischiamo poi di avere il nostro sigillante un pochino gonfio in alcuni punti. Andiamo dopo 60 secondi di polimerizzazione a togliere lo strato di dispersione e riprendiamo il nostro decoring con ZEN, quindi lo stesso colore di base, mescolato ad un pochino di nirvana per scurirlo leggermente, quindi non troppo, ma in modo tale che sia più chiaro delle foglie sotto, ma più scuro dello sfondo. Andiamo a disegnare altre foglie, altre una o due foglie in base agli spazi che abbiamo e andiamo proprio a posizionarci in modo tale da intrecciare le foglie che andiamo a fare adesso con quelle che abbiamo nello sfondo, sempre goccia iniziale che dà la direzione e poi andiamo a riempire lateralmente con altre gocce che poi appunto diventeranno foglie. Ricordiamoci anche ogni tanto di cambiare appunto la direzione, come in questo caso, in modo tale da avere un po' di gioco, come se le foglie fossero mosse dal vento e poi andiamo a tirare le punte. Anche qui senza esagerare con la quantità di colore, si deve vedere, ma attenzione a non metterne troppo, altrimenti poi il colore non polimerizza correttamente, rischiamo che rimanga una parte bagnata all'interno. E qui, visto che lo lasciamo in superficie, è ancora più importante che non ci sia troppo eccesso di colore. Tiriamo bene tutte le nostre foglioline, qui possiamo anche appunto andare a coprire un pochino le foglie precedenti, in modo tale da creare questo intreccio con le sovrapposizioni e poi vediamo se a noi basta così oppure se decidiamo ad esempio di riempire, come in questo caso farò io l'angolino della cuticola, quindi la mia decorazione poi sarà spostata tutta verso l'alto. Qui sempre prima foglia e poi andiamo con le altre gocce anche veramente bastano due o tre goccioline, anche se è super piccola, però tutto il resto farà visualizzare anche le foglioline più piccole. Se si vedono bene le altre, anche quelle più piccole poi diventeranno in automatico visibili. Andiamo a riempire bene appunto la nostra decorazione e andiamo poi, ecco anche qui ad esempio mancava un angolino, scusate, e poi andiamo a prendere la nostra polvere acrilica, che è una polvere molto molto sottile che noi utilizziamo di solito per le crepe, comunque nei sistemi combi, la utilizziamo anche per la decorazione. Prendiamo la nostra polvere, in questo caso ci aiutiamo con la parte a cucchiaio dello spingicuticole e proprio la andiamo a buttare sopra. Buttiamo più volte la nostra polvere in modo tale che il colore piano piano l'assorba molto bene. È molto importante che rimanga proprio bella in superficie, cioè bella piena fino in superficie, perché altrimenti poi la dispersione del colore non va a svanire. Polimerizziamo 60 secondi e poi con un pennellino morbido andiamo a togliere l'eccesso di polvere. Questo sarà il nostro risultato appunto con le foglie damascate.